anti cell plus è un drenante detossinante completamente su base naturale dopo la prima settimana di utilizzo si vedono gli effetti pancia più piatta braccia sgonfie pelle più tonica e compatta senso di fame attenuato e arti più leggeri 4 compressi ogni giorno con un bicchier d'acqua a stomaco vuoto